La felicità oltre a essere un bicchiere di vino Soprattutto il nostro parco, Carriziland, vice l'inosa Marco Ma sei perfetto Marco, a battuta rispondi, siamo pronti Bisogna essere sempre pronti No perché la verità è che i ragazzini, ma non solo, anche noi adulti siamo comunque sempre ragazzini Alla fine non sanno mai cosa fare, dove andiamo a divertirci, andiamo a Gardaland No, assolutamente no, perché noi al sud, nella fattispecie in Puglia E nella fattispecie a Cellino, San Marco abbiamo Carriziland Il nostro è un parco tematico ed acquatico, dei divertimenti Aperto già da 15 anni, quest'anno abbiamo l'anniversario, 15 anni di lavoro Insieme a tutti i nostri visitatori che arrivano da tutta Italia ormai Con il parco tematico ed è stato anche il grande parco acquatico Ormai il più visitato del sud Italia Però incuriosiamoli ancora un po' Sì Spieghiamo che cosa accade all'interno di questo parco Nel parco in primavera già ospitiamo tutte le scolaresche del sud Italia Puglia, Basilicata, Calabria, arrivano per visitare il nostro parco tematico E sono veramente numerosissimi gli ospiti che riceviamo ogni giorno nel nostro parco Dai 15 ai 20 pullman, solo di gite scolastiche Ormai le insegnanti non vogliono altro che Carriziland perché li seguiamo passo passo Io poi vedevo queste immagini dove ci sono queste persone piccole, piccole, piccole Ed è un mare, non è una piscina, è un mare In effetti poi dal periodo estivo, da giugno, quest'anno dal 13 giugno Apriremo il grande parco acquatico di Carriziland Carriziland Aquapark con le due grandi aree tematiche Le due isole caraibiche Abbiamo Isla Encantada e Isla Dorada Isla Dorada è la nuova grandissima e magnifica area acquatica aperta L'anno scorso, quest'anno verrà completata con tutte le opere scenografiche E bellissima, si vive una magia e un'atmosfera piratesca in questo mondo caraibico Quello di Carriziland Senti Marco, adesso mi devi cantare Perché non è possibile che il nipote di Albano non sappia cantare Io sono dell'avviso che... Ognuno deve fare il suo Ognuno deve fare il proprio Felicità? No, va bene No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siamo sempre felici di esserci ogni giorno Ogni giorno presenti per la Puglia, per il nostro territorio, il Salento E soprattutto per soddisfare quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, dei nostri visitatori Quelli di Carriziland, ovviamente una bellissima struttura nelle tenute anche di Franco Carriziland Un bicchiere di vino ci vuole sempre, grazie Marco Ci vuole sempre perché il vino fa sempre bene E il nettare della vita Sempre, sempre Lui e Marco